La parte verde e la parte azzurra sono più elevate, quella azzurra sì, quella verde è già più l'impronta che tu dai, diciamo così, la parte autostima. L'autostima deriva dall'amore con cui fai il tuo lavoro. Gianni Frestini-Vrosa a Trentino Caldo. Gianni, so che sei appena tornato da un viaggio in India, raccontaci che cosa sei andato a fare. Ma come tutti gli anni vado a, per così dire, verificare un pochino me stesso e anche un pochino quelli che sono gli adempimenti riguardo i progetti che vengono fatti nel sud dell'India. Punto di partenza, dove sei andato precisamente? Precisamente all'inizio sono andato a Bodh Gaya dove ho ricevuto degli insegnamenti sulla Santità del Dalai Lama e per un piccolo fatto di gossip c'era anche tra le persone il ricerchia. Ah, beh, poi parleremo anche di questo. Con chi sei andato? Sono andato con altre sei persone appartenenti al centro o comunque simpatizzanti del centro, volenterose per alcuni versi e desiderose di conoscere quello che erano le varie situazioni dei tibetani in India. Ti stai riferendo al centro Samtham Chuling. Esatto. Che ha avviato in India dei progetti, ovvero? Ovvero l'inalzamento di un ospedale con una sala oftalmologica e anche la preparazione del personale per poter lavorare in questa sala oftalmologica. Una sala multifunzione con attivo giardino e servizi igienici esterni per avere un maggiore igiene all'interno della casa perché fa molto caldo all'estate. hanno raccolto questo suggerimento e stanno finendo, diciamo, di costruire le parti esterne. Quindi non è ancora attiva questa sala? La sala all'interno sì, per quanto riguarda le funzioni religiose o laiche che si possono fare all'interno di questa sala. Come si raccolgono i fondi per finanziare questo tipo di progetti? Allora, diciamo che siamo in una provincia fortunata, una regione fortunata, dove ci sono delle leggi specifiche per poter aiutare gli aiuti internazionali. Noi abbiamo in parte attinto alla legge provinciale a questo riguardo e in parte noi raccogliamo i fondi con il mercatino del Natale, con il mercatino dei Gaudenti, con altre manifestazioni mostre al fine di sollecitare le persone a donare, ma anche sensibilizzare su quelle che sono le problematiche legate al popolo tibetano. Facciamo un passo indietro perché mi sembra di non aver capito bene. Chi sono le persone che si rivolgono a questo centro che avete aperto? Abbiamo una vasta gamma di persone che si avvicinano a quello che sono i nostri progetti, anche per come vengono presentati. Ma i motivi per i quali si rivolgono a voi? Se noi parliamo della popolazione tibetana è per come noi li abbiamo conosciuti, recandoci nel sud dell'India, mentre la popolazione che si avvicina a quello che sono il nostro modo di richiedere i fondi, lo fa per comprensione di quello che è la situazione del popolo tibetano e anche tante volte per una, chiamiamolo così, idea di compensazione di quello che può essere il modo di poter aiutare le persone che hanno realmente bisogno. Oltre a questo scopo però il tuo viaggio ha avuto anche il fine, un fine formativo, come stavi appunto dicendo prima. Certo, gli insegnamenti di sua santità al Dalilama sono sempre molto importanti e molto forti, possono dare delle iniziazioni particolari, specifiche che comunque chi è dentro nel buddismo non pubblicizza mai nella forma in cui vengono date, ma si opera nel tempo a dimostrare che è valsa la pena a prendere un certo tipo di iniziazione, cioè che sia in grado di portare a compimento l'insegnamento preso. Ma possono partecipare tutti a questi corsi o bisogna essere per forza buddhisti? No, no, cioè allora gli insegnamenti sono aperti al pubblico, tra l'altro quando vengono dati in India difficilmente si paga un biglietto, mentre qui in Europa si paga e a volte anche un prezzo alto. Più che altro è che chi non è già dentro il buddismo e si avvicina e sente questo tipo di insegnamento come minimo ha una grande benedizione da quello che viene espresso, da quello che è il risultato anche di energia che viene espressa all'interno di questi insegnamenti. Chi invece è già dentro al buddismo può raccogliere quelle forze che servono per poter continuare a compiere la propria opera nell'arco del tempo. Ultima questione, il centro Samtencioling ha dei progetti futuri da avviare sempre in India? Allora i progetti futuri da avviare in India sono anche abbastanza importanti e quello a cui più teniamo sarebbe la costruzione di una casa, museo, teatro dove possa essere veramente raccolta tutte quelle che sono le nozioni e gli insegnamenti a livello popolare di quella che è la cultura tibetana perché c'è un'università per chi ha già un conoscimento elevato e vuole portare nel tempo un compimento di riconoscimento di quello che può essere un ritorno dei tibetani in Tibet con la capacità di gestire un paese grande come il Tibet.